Sera attraverso il ponte di Regina Celi, va bene, per arrivare a via Giulia, una di notte, mi fermo, sento un rumore di una motocicletta sfondata dai marmitte, con due terribili sopra. Uno fa, ah vedi c'è sta Carlo, perdona, mamma mia Carlo, a Roma c'è sta soltanto te, papà, o sai sì, mamma mia, tira fuori il telefono, no, ma c'è via, è troppo buio, dietro, ti dì papà, Carlo, tu, guarda, veramente, guarda, quando esce il prossimo, eh, guardate giù i momenti belli che, ma ti dì, ti dì, un attimo sto a parlare. Sì, cominciavano ad arrivare a pure qualche macchina, una di notte che suonava, queste erano terribili. A un certo punto dico, il 7 marzo esco, i personaggi, i personaggi, mannaggia la miseria, bella, bella, partono, ma facendo la curva me lanciano a battuta. Ah Carlo, grazie, mi hai dato il sorriso a un'adolescenza da merda. bello grazie per aver metà del sorriso è un'adolescenza del merda questo vale 10 Davide e Donatello sta battuta